Veronica, volevo fare un ringraziamento a tutti i miei fans che mi stanno scrivendo, mandando mail, siete sempre più vicini, vi ringrazio. Un saluto soprattutto ai miei fans delle zone del Veneto, del Padovano, della Lombardia e dell'Emilia Romagna. Io sono vicina a voi, sempre, e sapete come. Ecco, questo lo sapete. Io mi sono vicina anche, anche in questo momento di paura, di terrore, di confusione. E saluto i miei amici medici anche delle zone che ho sopra citato. E direi, non lo so neanche io, che cosa dobbiamo fare in quest'Italia, questa italietta, che però è il paese più bello del mondo. E gli altri non ci vogliono, degli altri paesi. E questo è un grosso errore, perché comunque noi italiani, quando siamo all'estero, siamo veramente generosi. Siamo più generosi, forse, all'estero che nel nostro paese. Siamo sempre un po' troppo esterofili. E forse questo è anche un bene, un freno della nostra generosità. Perché comunque l'italiano, io veramente sono metà francese, quindi non sono neanche del tutto italiana, quindi parlo un po' così, un po' a sproposito. E quindi dicevo, peggio per loro, non sanno che cosa si perdono, oppure lo sanno. E sono talmente invidiosi delle nostre ricchezze, delle nostre ricchezze storiche, culinarie. Le donne più belle del mondo sono le italiane. Io ripeto, sono mezzo francese, quindi non sono in quel tipo di categoria. E quindi, ecco, tant pis, come on dice in Francia, tant pis, c'è un problema che noi italiani, io sono moite francese, quindi è più difficile a comprendere. Ma loro hanno fermato il Louvre, allora hanno chiuso anche il Louvre, quindi vi dico, la Gioconda si dira, ma, ma. Allora, stiamo tutti con il sorriso, sempre sulle labbra, e la vita ci sorriderà. Comunque è una situazione delirante, siamo veramente al delirio. Per il momento è tutto dalla vostra Veronica. Felina!